Ciao, in questo video andremo a vedere insieme tutte le risposte al quiz di Kindred. Ovviamente vi dirò perché ho scelto una risposta rispetto ad un'altra e discuteremo su una risposta in particolare che è quella un po' più dubbiosa. Partiamo subito con il dire per qualche nuovo giocatore che magari non sa dov'è, che semplicemente quando siete nella lobby, qui andate a premere eventi in alto a sinistra e trovate l'evento con le risposte. Mi raccomando, anche se poi non vi interessa tanto rispondere a tutte le domande correttamente, fate l'evento perché vi danno delle carte protezione classificata che sono sempre comode. Inoltre, poco prima di continuare, ricordo che qui alla sinistra c'è anche l'evento dei Poro che sta comunque finendo, cioè vedete l'evento finisce tra sette giorni, però un po' anch'io personalmente ve lo dimentico perché è nascosto lì dietro al quiz di Kindred. Comunque, non perdiamo altro tempo e partiamo dalla prima domanda, la domanda 1. Che ci chiede, Kindred è il leggendario simbolo della morte su Runterra, ma cos'è esattamente? Le risposte sono un animale, un dio, uno spirito e un demone. La risposta che andrò a mettere è un dio. Tra l'altro qui ho cercato anche su Google, nonostante io sapevo già che questa fosse la risposta corretta, ma cercando su Google c'è proprio scritto Kindred, due punti, character, League of Legends wiki, quindi parliamo proprio della wiki, e c'è scritto Avatar of Death. Kindred is a god of death, quindi Kindred è un dio della morte. Quindi la mia risposta numero 1 sarà un dio. Vediamo poi la seconda domanda. Qui ci chiede, dopo aver usato la sua passiva Marchio dei Cacciatori su un campione nemico, quale di questi bonus Kindred ottiene permanentemente se uccide quello stesso campione? Qui la mia risposta è Gittata d'attacco. Se avete dubbi su questa risposta, comunque considerate che ci vuole veramente un attimo ad andare qui, andate su Campione, andate su Kindred, e qui c'è la passiva Marchio dei Cacciatori. Se andate a vedere già qua sotto la metà c'è scritto le prime tre cariche ottenute forniscono 75 di Gittata d'attacco. Per ogni tre cariche successive ottenute, Kindred guadagna 25 di Gittata d'attacco. Quindi la seconda risposta è la Gittata d'attacco. Vediamo la terza. Questa domanda dice, qual è il motivo per cui Kindred viaggia per Runterra? Per trovare la fonte del potere, per dare la caccia alle anime morenti, per proteggere i membri della tribù, per completare un misterioso rituale. Qui la risposta è piuttosto facile, cioè per dare la caccia alle anime morenti. Quindi quello che va a fare Kindred in quanto dio della morte è appunto cacciare le anime morenti. E su questo purtroppo ci dovremo ritornare perché la quinta domanda è quella veramente più odiosa di tutte. Andiamo intanto a vedere la quarta però. La quarta è di nuovo diciamo una di quelle più facili, perché quelle riguardanti il gameplay sono le più facili anche da controllare. Infatti qui chiede, Kindred è formato da agnella e lupo, come si abbinano i morsi del lupo con i dardi dell'agnella durante gli attacchi? Quindi più o meno come facciamo a usarli contemporaneamente. Rotolando in avanti durante Danza delle Frecce? No, perché la prima abilità fa soltanto la capriolata e dai dardi. Abbiamo Marchiando il territorio durante la frianesia del lupo, che secondo me è quella giusta. Abbiamo Rallentando i nemici durante Timore Incombente, ma no perché lì il lupo va, dà il mozzico e basta, però poi se ne va. E invece la D, che è benedicendo il terreno durante il riposo dell'agnella? No, perché è quello solamente per sopravvivere. Mentre Marchiando il territorio durante la frenesia del lupo, che cosa facciamo? Quando noi attiviamo la seconda abilità, si crea questa zona dove ci sta il lupo che può attaccare e lui continua ad attaccare i nostri bersagli. Quindi abbiamo il lupo che continua ad attaccare e noi che contemporaneamente possiamo usare gli attacchi base. Infatti anche aprendo la spell e dice attiva, attivandola, rivendica un'area come proprio territorio e manda il lupo a dilaniare l'ultimo bersaglio attaccato dall'agnella. Quindi ci siamo. Anzi, giusto per fare una breve referenza a chi ha visto anche il guido, il vecchio video di Kindred, quello dove spiego le abilità, della pecora. Comunque, pecore a parte, andiamo sulla domanda più odiosa di tutto questo trivia. Nonostante le sue leggende siano diffuse su tutta Runterra, in quale regione è più attivo Kindred al momento? Attenzione, ho letto questa domanda anche in inglese e anche qui c'è mainly active. Quello che si intende in questa domanda è dov'è che in questo momento della lore di League of Legends, questa è la parte un po' complicata, è più attiva Kindred? Ecco, questo è un casino perché sappiamo che non dovrebbero essere The Matcha e Bill Gwater e ci rimangono Isole Ombra e Freljord. Ho scritto anche al Mastro Rinsler della lore che ha detto di solito se ne vanno a cacciare molto nelle Isole Ombra perché ci stanno gli spiriti morenti, gli spiriti effimeri e tutte queste cose, ma nel Freljord è dove vengono più venerati, quindi abbiamo una situazione di venerazione ed è questa la domanda che non so darvi al 100%, perché ho il mezzo dubbio nell'ultima cinematica che abbiamo visto di League of Legends PC, quella era sulla season nuova, non ricordo esattamente la motivazione per cui le hanno messo, ci sta tutta una cinematica incentrata su Kindred e la parte principale dove la inquadrano è proprio in quella battaglia dove c'è anche Trindamer e sono proprio nel Freljord. Inoltre c'è chi sostiene che appunto essendoci una guerra in Freljord e quindi tanta gente che combatte, continuano a morire un sacco di persone, un sacco di spiriti anche tecnicamente, e quindi siano più attivi nel Freljord proprio per questa motivazione. Io andrò a mettere questa domanda, ma è l'unica dove vi dico Isole Ombra potrebbe essere un'alternativa, quindi fatemi sapere anche giù nei commenti se avete scelto una risposta differente da me per la quinta domanda e mi spiegate magari anche bene perché alla fine abbiamo 7 giorni ancora per completarlo, quindi magari, anzi no, le risposte sono l'8 sì e l'8 aprile. Quindi in realtà 5 forse per dare le risposte e le ultime due dove dobbiamo solamente aspettare, però se qualcuno ha un'indicazione perfetta al 100% inamovibile ed è quella la mettete nei commenti, scusate c'ho il singhiozzo, andiamo a pinnarla, la vado a pinnare così la vedono tutti quanti, ma a questo punto passiamo alla sesta che ci chiede quando Kindred lancia la sua Suprema al riposo dell'agnella, l'agnella benedice il terreno sotto di sé. Quale buff fornisce a tutti i campioni nell'area? Resistenza aumentata? No. Velocità aumentata? No. Danni nel tempo? No. E invulnerabilità? Sì, infatti quando tiriamo la Suprema di Kindred rendiamo invulnerabili sia noi che tutti quanti, o meglio tutte le persone, tutti i campioni che scendono sotto il 10% della loro vita diventeranno invulnerabili e verranno curati successivamente. Sperando di non aver beitato potentemente tutti quanti con la quinta domanda e aver messo comunque le mani avanti al riguardo, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, vi auguro inoltre una buona serata, delle buone rank ed ci vediamo al prossimo video.